Buonasera, eccoci all'incontro serale per fare il punto della situazione. In Toscana registriamo 167 nuovi casi di coronavirus, sono stati effettuati ben 4.091 tamponi e a Massa Carrara arriviamo per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria ben 912 casi. Oggi infatti se ne aggiungono 22 nel Apuane e in particolar modo ne registriamo 19 a massa. È il dato più importante delle ultime settimane e molto probabilmente dai dati che ci pervengono dall'azienda sanitaria la maggior parte di questi casi deve essere addebitata al RSA dove si sono effettuati tanti tamponi nell'ultimo periodo anche su disposizione della regione toscana e la maggior parte sono imputabili a queste strutture. Per fortuna non risulterebbe ad oggi nessun caso positivo per quanto riguarda la Casa Ascoli e la RSA Pelù. Il bollettino ASD non registrerebbe ad oggi, salvo il vero, alcun decesso a massa. Quindi sappiamo insomma che la situazione in questo momento resta complicata, in particolar modo pare per il nostro comune. Comunque probabilmente questo è il frutto di tamponi che sono aumentati in particolar modo nella nostra zona proprio per fare in modo che eventuali focolai e eventuali RSA potesse in qualche modo essere contenuto. Sappiamo che la regione toscana è intervenuta attraverso una task force per prendere in carico alcune RSA private e quindi per fare in modo che questa situazione venga contenuta. Quindi auspichiamo che la situazione possa migliorare nei prossimi giorni. Oggi purtroppo registriamo comunque un dato abbastanza negativo. Inizierà anche una comunicazione importante che inizierà anche la distribuzione delle mascherine monouso da parte della regione toscana che avevamo già annunciato nei giorni passati ed è stata disposta la distribuzione sempre a tutte le persone di età superiori a 6 anni e al momento si ipotizza, si dovrebbe realizzare attraverso le farmacie pubbliche e private e anche attraverso la grande distribuzione con confezioni da 5. Quindi ogni persona che si recherà nella grande distribuzione delle farmacie potrà ricevere gratuitamente 5 mascherine presentando la tessera sanitaria. A maggio ci viene detto che e quindi per i mesi successivi le mascherine saranno date in un numero minimo da 10 a un massimo di 30 questo per consentire a tutti coloro che ne hanno necessità di poter uscire sicuri dalle proprie abitazioni anche se la raccomandazione è sempre quella di, come vedete, di mantenere grande prudenza, isolamento sociale, possibilmente uscire il meno possibile e quindi continuare la protezione individuale perché in questo modo riusciremo a contenere anche il contagio. Peraltro stiamo anche continuando come protezione civile a ultimare le consegne nel nostro territorio con la dotazione che avevamo e stiamo completando le parti che mancavano e a integrare dove è stato richiesto. Oltretutto posso anche comunicarvi che le nostre farmacie comunali stanno vendendo a prezzo di costo, quindi senza nessun ricarico, anche loro dispositivi di protezione sia monouso sia lavabili. I buoni alimentari abbiamo coinvolto, come avevamo annunciato nei giorni precedenti, anche i negozi di vicinato, la lista quindi dei negozi si sta aumentando e tutto viene pubblicato ogni giorno sul sito con gli aggiornamenti dei nuove strutture, nuove attività che si convenzionano con il Comune. Tant'è vero che abbiamo incominciato anche a consegnare i buoni spesa in taglio da 25 e da 50 euro spendibili in tutte le attività commerciali, comprese anche la grande distribuzione e comunque quelle convenzionate che, come vi dicevo, trovate sul sito web del Comune. Da lunedì 20 verrà pubblicato l'avviso per l'assegnazione anche dei contributi a sostegno del pagamento del canio di locazione. Questo è un contributo straordinario che spetterà chi ha avuto una diminuzione del reddito non inferiore al 30% ed è riferito sia a redditi da lavoro dipendente sia a redditi da lavoro autonomo, quindi ad esempio quelle categorie la cui attività è stata sospesa con i provvedimenti del governo. Le domande potranno essere presentate dal 20 aprile al 9 maggio mediante PEC, raccomandata R, invio per posta elettronica alla casella appositamente creata, contributo affitto, chiocciolacomune.massa.ms.it o per fax al numero 0585 41245 direttamente online non appena sarà disponibile. Avviso e domande potranno essere consultati e scaricati dal sito del Comune oppure reperiti nell'area esterna dall'URP. Mi raccomando, questo dal lunedì 20. Poi sappiamo che recentemente l'ordinanza della Regione Toscana ha consentito di operare e manutenzione, vigilanza e pulizia negli stamenti balneari, nei campeggi e nei villaggi turistici. Questo è un segnale che speriamo di cogliere positivamente perché vuol dire che la fase 2 potrebbe essere vicina. La stessa cosa vale anche per i cantini navali e altre attività. Oggi sappiamo anche che un incontro con il Presidente della Regione Toscana con le attività imprenditoriali finalizzate all'export consentirà probabilmente anche nei giorni della prossima settimana di aprire altre attività e quindi anche questo sono segnali che comunque sono incoraggianti, anche se la raccomandazione è sempre la prudenza. Infatti la Regione Toscana ha stabilito che il giorno 25 aprile e il giorno 1 maggio tutti gli esercizi commerciali resteranno chiusi e sarà consentita, come accaduto per il weekend pasquale di Pasqua a Pasquetta, la consegna a domicilio di igiene alimentari e di prima necessità. Bene, io credo stasera di avervi riferito tutto quello che era importante e necessario. Speriamo che la situazione su massa vada migliorando, anche se, ripeto, i segnali, le indicazioni che ci giungono sono quelle di questi focolai localizzati a queste strutture. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi raccomando sempre cautela, mettete la mascherina, sapete che dal 19 aprile diventerà obbligatorio quando si uscirà o si staranno in luoghi aperti o privati e dove non sarà possibile mantenere la distanza e mantenere la mascherina chirurgica. Fate un buon uso di questa mascherina chirurgica, anche se, come vi ho detto, ve ne saranno distribuite in continuazione in vari punti e in varie modalità. Grazie, buonasera a tutti.